Coppa Meravera, Locauto, calcio a 5, serie B2, si affrontano nell'ultima e decisiva sfida per la qualificazione dei playoff FC Oclaro e Tiger Micali Tattoo. Ia Robino, grande giocata, 1 a 0, FC Oclaro, parte capitale la botta, 1 a 1, la risposta di Tiger Micali Tattoo con il pareggio di Carracciolo. La posizione, l'1-2, la chance, è il 2 a 1, segnato da Uttiero, torna in vantaggio FC Oclaro, a tutto col sinistro, Bervini, go l'asso, Caracciolo si allarga, incrocia, ancora lui, Caracciolo, gioco. Togli, la palla è buona, Bervini, tutto solo, e l'appoggio comodo comodo di Lossi, deve solo spingere il pallone in porta. Lì dentro, si inserisce con la bella che poi segna il 5 a 2, provare Lossi, 1 contro 1, con Lossi, 6 a 2, Tiger Micali Tattoo. Attenzione, Barbuto, il destro, e c'è il 3 a 6, di FC Oclaro, al diciottesimo, torna a meno 3. E poi, ancora il sinistro, imprendibile, di Bevini, anzi, 2 contro 1. Guarda da Iopolo, Iopolo, e segna il gol dell'8 a 3, con la bella, di nuovo con la bella, con il destro, pacca alla porta. Guarda, parte Sorrentino, e segna il 4 a 9, a Iopolo, la porta sguarnita, Iopolo, saltabello, e mette dentro, Bagliocco, con la bella, Gertù con Salino, la porta vuota, e mette dentro, scivolata Bagliocco, 11 a 4, Tiger Micali Tattoo. Natale di partenza, prova, e trova un gran gol, Caracciolo, il capitano, Micali. Grazie al pallone, in buca d'angolo, la vittoria 13 a 4, di Tiger Micali Tattoo, che dunque si qualifica al secondo turno della Coppa Primavera, bloccauto, calcio a 5. Allora, siamo con Matteo Caracciolo, il capitano di Micali Tattoo, Tattoo, insomma, vittoria netta, qualificazione al secondo turno, missione compiuta, direi tutto bene. Sì, per fortuna siamo passati, abbiamo paura di non passare, all'inizio siamo partiti malissimo, però dopo 5 minuti ci siamo ripresi, è stata una bella vittoria, molto netta. I 13 gol, forse non ve li aspettavate neanche voi di segnarne così tanti? No, dai, diciamo che loro alla fine hanno un po' mollato, ma ci può stare, ha un parecchio in vantaggio, però sono una bella squadra anche loro. Adesso sono puntati ad andare avanti, come si dice, l'appetito viene mangiando. Speriamo di vincere un torneo prima o poi. Allora, hai vinto il premio, come migliori in campo, il buono locauto, così se hai bisogno di un noleggio di una macchina, ecco, bravo, per la vacanza questa è una buona idea, c'è locauto che ti può fare uno sconto appunto sul noleggio di un'auto. Grazie a te, complimento. Ciao.